Tutti quelli che parlano con me, di solito al bar, comunque se mi conoscono si sentono obbligati a parlare di resilienza, a commentare questa cosa e diciamo un caso di più grande resilienza questa donna, poi pensandoci bene, effettivamente ho detto no, non è un caso di resilienza, perché c'è un aspetto dinamico nella resilienza, cioè la capacità di modificare l'ambiente, la capacità e l'adattabilità, sapere che c'è una resilienza, si parla di resilienza anche in ecologia per esempio, è molto diversa, non è la sopportazione pura, questo atleta per esempio non è nato rosino, quasi tutti i paraplendici che fanno sport sono persone che avevano una vita normale prima e poi per compa di un incidente finiscono sulla sedia a rotelle e effettivamente riescono, nonostante un evento negativo che ferma la vita della gran parte delle persone quando succedeva la cambia in maniera peggiorativa invece a trovare delle nuove sfide, a fare delle cose che magari non si sarebbero mai sognati di fare, come è il caso del soggetto in questa foto, allora questa è un po' la resilienza secondo me, c'è un concetto dinamico, siamo in Skillab e tra breve comincerà un, non so la resilienza è una capacità umana trasversale che è stata studiata da me moltissimo nelle applicazioni sportive, però in realtà è utile in qualsiasi campo diciamo delle attività umane e credo anche in campo della vendita sia estremamente importante. Grazie a tutti.